Si è conclusa la seconda edizione di Balconi in Fiore, organizzata dalla Commissione Eventi. Abbiamo premiato il terzo classificato, Salvatrici e Locascio di Cermusco. Il secondo classificato, Ingo Cereda, sempre di Cermusco. Ed eccoci nel balcone il primo classificato di Letizia Owen. Come potete vedere il premio offerto da Belfiore. A far parte della giuria del nostro concorso, oltre a Belfiore di Osnago, anche Italy Cactus di Cermusco, Eredi Cereda, sempre di Cermusco, Fiorista Brivio di Burciago e Centroverde Merate, che hanno offerto i premi e che hanno votato loro gli undici balconi che erano in gara. Quindi ringraziamo Letizia, ringraziamo dentro il cuore e vari divinari tutti coloro che hanno partecipato, che hanno ricevuto un premio di consolazione e la pergamena per tutti gli undici partecipanti. Io stasera resto fuori come i fiori sui balconi, Disegno stelle e cuori su un vetro dell'ultimo metro.